Importante operazione dei carabinieri a Sant'Antimo in provincia di Napoli. I militari della locale tenenza hanno eseguito infatti un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord a carico di 8 persone, 5 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di concorso in usura e estorsione e tentata estorsione, lesioni personali, indebito, utilizzo di strumenti di pagamento e abusiva attività finanziaria. Le indagini, condotte anche mediante l'attività di intercettazione telefonica, sono state avviate nel settembre del 2020. Dopo la denuncia presentata da alcune vittime di usure hanno consentito di documentare a carico degli oderni indagati un sistema in grado di generare interessi usurari mensili fino al 50%. Eventuali ritardi nei pagamenti, oltre a minacce e intimidazioni, avrebbero generato un ulteriore aggravio di spesa definito dagli indagati come scomodo. Una delle vittime sarebbe stata costretta anche a consegnare la carta dove veniva versato il reddito di cittadinanza e la somma bonificata sarebbe poi stata prelevata o utilizzata da alcuni dei indagati per spese personali. Gli arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Poggio Reale o sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni in attesa di interrogatorio da parte del giudice.